Non ho il certificato verde perché in libertà ho scelto di non vaccinarmi, non ho il certificato verde perché non trovo corretto che le istituzioni abbiano prima dato la possibilità di scegliere, poi l'hanno reso obbligatorio in modo surrettizio, pena l'esclusione dalla vita sociale e addirittura dal lavoro. Inizia così la lettera di Roberta Salimbeni, 50 anni di Fabriano e docente di lettera alla scuola media gentile che oggi racconta della sua sospensione provocata dall'introduzione del lascia passare, ritenuto inutile dall'insegnante perché non contrasta l'epidemia e non attesta che il titolare è sano. La sua, come ci tiene a specificare, è una disobbedienza civile verso un provvedimento ingiusto, discriminatorio e illegittimo. Innanzitutto io ho deciso di non vaccinarmi tempo fa per una mia storia personale e perché ho ritenuto, cioè io nei confronti del vaccino ho sempre avuto dei dubbi. Io ho avuto il covid a dicembre scorso, quindi avevo una copertura anticorpale abbastanza alta e quindi ho ritenuto opportuno non vaccinarmi, anche perché avevo ricevuto delle informazioni relativamente al vaccino molto contrastanti e quindi ho avuto anche un po' paura. Poi è uscito il decreto che consentiva ai docenti di entrare a scuola o con il vaccino o con il tampone ogni 48 ore, un provvedimento non condiviso dalla docente perché ritenuto in contrasto con i principi in cui crede e sui quali basa il suo ruolo di madre, di docente e di persona. Roberta infatti ha sempre cercato di insegnare agli alunni e ai suoi figli di 12 e 15 anni sia parole che con l'esempio a informarsi, a mettere in dubbio, a discutere, a non giudicare mai l'altro, ma ad accoglierlo a prescindere, ad ascoltarsi dentro per poter scegliere senza troppi condizionamenti e infine a combattere per delle idee e per i diritti che sono innati e che nessuno ci dà e dunque non ce li può neanche togliere. E in questo periodo lei è stata criticata? Mi è stato detto che io sono una cattiva maestra perché in qualche modo con il mio gesto ho come insegnato ai ragazzi a disobbedire alle regole e vorrei sottolineare che questo non me lo sento come critica, non mi appartiene perché in realtà io mi sono fatta da parte rispetto a questo provvedimento. Non pretendo assolutamente, non sono una persona aggressiva né violenta e quindi io non pretendo di andare a insegnare senza nulla, ma semplicemente io ho detto no al Green Pass, a questo certificato proprio perché lo ritengo ingiusto, lo ritengo discriminatorio, lo ritengo anche non in linea con i regolamenti nazionali e sovranazionali. Quello che voglio dire ai ragazzi non è quello di disobbedire alle regole ma che qualche volta la regola non è detto che sia così giusta, che sia così equilibrata e che quindi loro possono anche in qualche modo discuterla e prendere posizione. Roberta vorrebbe che gli studenti, i genitori e il suo dirigente pretendessero da lei non un certificato verde ma certificati che attestino la sua preparazione e le sue competenze. Lei che si è guadagnata il suo posto di lavoro con un regolare concorso pubblico e frequentato numerosi corsi per mantenere alto il suo profilo professionale. Lei che si è sempre prodigata nella scuola anche ricoprendo incarichi di responsabilità. Io sto raccogliendo tante testimonianze perché poi le persone mi scrivono, sono state molto carine perché ho ricevuto tanta solidarietà da persone le più disparate, non solo da insegnanti, anzi soprattutto da altre persone che appartengono ad altre categorie lavorative. Le posso dire che molti sono stati costretti a vaccinarsi, quindi a disattendere la loro scelta perché purtroppo non riescono a pagare i tamponi e quindi io lo vedo come uno strumento, non mi vergogno a dirlo, coercitivo. Infatti il provvedimento le ha tolto non solo la possibilità di esercitare i suoi diritti ma anche lo stipendio. Inoltre le è stata combinata una sanzione di 400 euro come previsto dal decreto. Mi sento punita, ha detto la docente, da uno strumento scorretto e di natura politica, non sanitaria, perché questo è un modo per costringerci a fare una scelta che altrimenti non faremmo, cioè quella del vaccino. E se il Green Pass dovesse essere prorogato? Spero che venga tolto il prima possibile. Se dovesse invece essere prorogato io mi riservo il tempo per decidere. Adesso io sinceramente non saprei cosa fare. Probabilmente continuerò ad astenermi dal lavoro, quindi continuerò ad essere sospesa, perché la mia vuole essere una sorta di battaglia per un diritto, per poter ritornare a vivere senza esibire un certificato. Vivere come prima, in maniera libera, perché ne abbiamo diritto e se ci dobbiamo tutelare dalla pandemia, come è giusto. Penso che non debba essere i diritti alla libertà, alla scelta, non debbano essere subordinati, perché sono troppo importanti per me. Forse. Forse. Grazie a tutti.